Una denuncia tardiva ma soprattutto fuori luogo. E' questo il commento del sindaco di Grisolia Antonio Longo all'ultima contestazione del gruppo consigliare d'opposizione Grisolia nel cuore. I consiglieri di minoranza, attraverso una nota stampa, entrano infatti nel merito del voto favorevole che il primo cittadino di Grisolia avrebbe concesso in sede d'assemblea per l'approvazione del piano del Parco Nazionale del Pollino, senza consultare la popolazione ed il resto del consiglio comunale di Grisolia. Lo stesso sindaco nel replicare ha sostenuto invece di essersi fatto promotore, proprio in sede di votazione, delle istanze provenienti dalla consulta ambientale comunale, al cui interno, precisa Longo, ebbe rappresentata la stessa minoranza. Un riferimento, quello del primo cittadino dunque, a quanto accaduto lo scorso 6 maggio a Castrovillari. In primavera infatti i principali attori istituzionali che costituiscono l'area Calabro-Lucana del Pollino, hanno approvato l'importante strumento di riferimento per il governo dell'area. Un piano, spiega Antonio Longo, che ha raccolto le indicazioni provenienti dalla nostra consulta e che ha portato di conseguenza l'inserimento di interventi migliorativi a beneficio del nostro comune e di tutte le aree di maggior pregio naturalistico. Di opinione opposta al consigliere di minoranza Aldo Crusco, proprio l'ex sindaco ritiene infatti che il Consiglio Comunale, ma tutta la popolazione, siano stati privati di un loro potere decisionale. Longo, ha affermato il consigliere d'opposizione, con la sua azione autoritaria ha perso un contributo che avrebbe potuto arricchire, e di molto, la preparazione del documento in questione.